guarda la telecamera e qua si dimmi che il nuovo video qui e a tirarsi più fuori qui ecco ecco si renda così guarda la telecamera il metrimetro andiamo a fare la base guarda che bella ce l'ha tutto fino attento che vanno un po' lontani vanno indietro ralenta 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 la passarta sarà il robot Grazie.